Nella ventisettesima giornata di campionato di Serie D Gironè, il Tiferno incontra la San Giovannese al comunale Bernicchi di Città di Castello. La squadra di casa scende in campo con il lutto al braccio e il ricordo del vicepresidente Ivo Guerri. Le formazioni per il Tiferno in campo Guerri, Sensi, Avellini, Tersini, Ruggeri, De Santi, Scappa, Massai, D'Urso, Bagnolo, Evangelista. In panchina con mister Gualtiero Macchi, Elisei, Bux, Mariucci, Pazzaglia, Ferri, Cammar, Gorini, Locchi, Battellini. Per la San Giovannese in campo Cipriani, Giannini, Migliorini, Nannini, Fanetti, Rosetti, Baldesi, Sacchini, Polo, Bellini, Acamadu. In panchina con mister Firicano, Palagi, Milani, Giordano, Lorenzoni, Di Vito, Bencini, Calosi, Moruzzi, Falsini. Arbitra l'incontro il signor Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dal signor Salvatore Damiano e dal signor Paolo Vitaggio. Al secondo minuto Ruggeri in profondità per Bagnolo che crossa sul secondo palo, Massai non ci arriva. Al nono minuto, su rinvio corto della difesa Tifernate, Bellini si impossessa della palla e calcia verso Guerri che ci mette il corpo e para. Al quattordicesimo punizione dalla destra di Evangelista, Durso prova la girata di testa, la conclusione è debole e diventa facile presa per il portiere. Al diciannovesimo occasione per la San Giovannese, palla in profondità per Acamadu che entra in aria e calcia, Guerri si supera e para deviando in angolo. Al quarantaduesimo per il Tiferno esordio del portiere Elisei. Al quarantasettesimo finisce in attacco la San Giovannese, prima su palla invitante per Acamadu che prova la conclusione ma viene murato in angolo. Poi su calcio d'angolo, Bellini prova la conclusione in acrobazia ma la palla finisce alta. Si chiude sullo 0-0 il primo tempo. Nella ripresa al cinquantaquattresimo la prima occasione per il Tiferno che si fa vedere con Evangelista. Dal limite dell'area prova la conclusione, Cipriani allontana in angolo. Al cinquantanovesimo di nuovo il Tiferno in avanti, prima con Bagnolo che servito da Cappa calcia verso la porta avversaria. Il portiere non ci arriva ma la palla viene respinta dal palo. La difesa della San Giovannese si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo la palla viene allontanata, corta dalla difesa, Cappa si coordina, calcia e si ora la traversa. Al sessantaduesimo si fa vedere la San Giovannese per la prima volta dalle parti di Elisei. Con schema su punizione, Migliorini calcia in porta, il giovane portiere Tifernate non si fa sorprendere e para sicuro. Al settantesimo rinvio lungo di Elisei, Battellini appoggia per Durso che prova la conclusione, Cipriani si distende e blocca. Si chiude sullo 0-0 la ventisettesima giornata di campionato. Con mister Firicano un commento a caldo sulla partita appena conclusa, Tiferno San Giovannese 0-0. La sensazione è che forse abbiamo sciupato un'occasione per raggiungere almeno altri due punti alla nostra classifica. Non perché il Tiferno abbia demeritato, ma perché il nostro primo tempo è stato superiore, con diverse situazioni da far gol. È un po' il nostro limite che non trasformiamo quanto di buono abbiamo fatto, specialmente nel primo tempo, con diverse occasioni, tre o quattro volte abbiamo calciato verso la porta da dentro l'aria in posizione favorevole e non abbiamo realizzato anche un calcio d'angolo che poteva darci il gol mezza rovesciata. Insomma, più situazioni e anche una buona supremazia, però non abbiamo concretizzato. Poi il secondo tempo, sinceramente, la partita si è un po' appiattita, è diventata più una partita ad attesa, tutte e due le parti. Con mister Gualtiero Macchi un commento sulla partita appena conclusa, Tiferno San Giovannese 0-0. Credo che sia il risultato giusto per quello che abbiamo visto sui 90 minuti. Insomma, è stata una partita combattuta, non bella, giocata con molte palle alte e molte seconde palle, ma questo ce l'aspettavamo e noi bisogna cercare di recuperare il più possibile i giocatori che abbiamo fuori. Ci si è messo anche l'infortunio a Ruggeri e al portiere, quindi eravamo un pochino corti come al solito. Comunque, dal punto di vista temperamentale, abbiamo retto botta, abbiamo combattuto, non abbiamo espresso il gioco che volevamo. Considerando anche l'uscita di Guerri e Ruggeri e, tra l'altro, anche l'esordio in prima squadra di Elisè, il portiere. Sì, 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 bene, il ragazzo si è comportato bene, è stato abbastanza sicuro e quindi questa è una nota positiva anche perché poi credo che qualche altra partita la farà il ragazzo, visto che Guerri si è fatto male a un ginocchio, adesso vediamo l'entità dell'infortunio.